Benvenuti alle ultime notizie sportive di oggi, da TV Play arriva una vera e propria sentenza indiretta sulla questione di Maria e le sue dichiarazioni, cosa è successo? Da, TBPLY, si è parlato della questione di Maria Juventus. Il giocatore recentemente ha dichiarato che gli piacerebbe tornare al Rosario, squadra argentina in cui è cresciuto. Tra gli ospiti speciali in diretta su, TBPLY, Erfaina è intervenuto sulla questione relativa all'attaccante bianconero, attualmente ai box per infortunio. Come sappiamo, Di Maria, arrivato ad inizio stagione con un solo anno di contratto da 7 milioni non ha ancora saputo mettere il suo marchio nella squadra di Allegri. Una situazione che non fa felici i tifosi, Di Maria è la sentenza indiretta. Così ha commentato il noto influencer Erfaina, parlando proprio della situazione Di Maria e delle sue recenti dichiarazioni. Ed in geco alla soglia dei 37 anni fa ha ancora la differenza. Di Maria è un cialtrone per le dichiarazioni che ha fatto. Non puoi permetterti di dire queste cose, se fossi un tifoso della Juve sarei arrabbiato come una iena per le parole pronunciate da Di Maria. Sei un giocatore sopra la media, sei un fenomeno, ma è una follia prendere uno di 34 o 35 anni e fargli un anno di contratto. Parole che sembrano essere le stesse di alcuni tifosi che, leggendo, ad esempio, già sui social personali del giocatore lo accusano di poco attaccamento alla magna. Su Di Maria si è parlato addirittura di un possibile addio già nella finestra di gennaio, ipotesi che in questo momento, però, appare smentita dallo stesso entourage del giocatore. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.